Sono Pasquale Giliberti, sono Andrea De Carnuccio, il nostro sponsor è Bar L'Angolo, situato a Piazza San Pasquale, a Portici. Auguriamo una buona Maverix a tutti. Ciao, sono Giuseppe Baldi. Ciao, sono Claudio Melune. E il nostro sponsor è Maverix League. E ci sta pure KDR. E quest'anno... Ci sono anch'io. E ci sta pure KDR. E ci sta pure KDR. E ci sta pure KDR. Grazie a tutti Grazie a tutti